A 14 anni, con questa bella faccia, sono seduto davanti alla TV che guardo video su video di musica rap e decido che quello è ciò che voglio fare nella vita. Con quest'altra bellissima faccia invece, qualche anno dopo vado ancora a scuola. Non sono uno studente modello, gli occhiali che indosso li ho rubati al mio professore, ma comunque il mio dovere lo faccio e a 18 anni mi diploma. Nel frattempo ho scritto tante canzoni, ho iniziato a cantarle in giro e anche a girare i miei video. C'è solo un problema con la musica, non ci faccio una lira. Per i soldi devo lavorare come meccanico, lavoro che faccio dai 20 ai 30 anni, 10 anni esatti, ed è proprio a 30 anni in piena crisi esistenziale che dico a me stesso che o ci provo davvero adesso con la musica o non ci provo più. Mi licenzio, prendo le migliori canzoni che ho scritto, qualche soldo che ho da parte, tutta la creatività di cui sono capace e convoglio tutto dentro Michelle, il mio primo album e, mi dico, la cosa più bella che io abbia mai fatto. Dopodiché vado in tour e durante tutto questo periodo, iniziato dal momento del mio licenziamento, nonostante le difficoltà, le incertezze, nonostante la paura e i fallimenti, il livello di fiducia in me è ai suoi massimi storici. Poi c'è un cambio di rotta. Firmo con una major. Come prima cosa mi chiedono di non far uscire un video a cui avevo lavorato per settimane e nel quale avevo coinvolto gran parte della mia community, perché prima è meglio girarne un altro di video, ma di un'altra canzone, però scelta da loro. Questa cosa mi destabilizza. Per diversi motivi, però alla fine accetto e il video lo giro, dandogli quel mio piccolo tocco personale. Dopodiché, calma piatta. Non sanno bene come lavorare al mio progetto e quindi bisogna aspettare. Anche questa cosa non mi fa sentire bene con me stesso, però se bisogna aspettare, aspettiamo. Finché un giorno non vengono da me e mi chiedono se voglio provare a partecipare a Sanremo Giovani. Io penso che Sanremo Giovani non è mai stato un mio obiettivo. Non penso nemmeno di essere il tipo di artista adatto né di essere preparato per un'esperienza del genere. Però l'alternativa è continuare ad aspettare. Quindi, piuttosto che niente, meglio piuttosto. Faccio tutto quello che va fatto. Scrivo la canzone, faccio tutta la trafila di selezioni e alla fine a Sanremo ci arrivo davvero. Ora, purtroppo non ho foto di Sanremo da mostrarvi che non siano coperte da copyright, perché non ne ho di mia proprietà. Però me la cavo abbastanza bene con il disegno e quindi ho cercato di sopperire alla mancanza di foto con dei disegni fatti da me. Dicevo, a Sanremo ci arrivo e faccio bene. Mi piazzo terzo, la mia canzone piace molto, la mia performance piace molto, io piaccio molto, ma nonostante tutto stia andando esattamente come deve andare, io inizio a non stare bene, a non stare bene con me. E la mia incrollabile fiducia, che mi aveva accompagnato fino a poco prima, proprio adesso inizia a vacillare. Però non ho tempo per indagarne le motivazioni, perché bisogna subito partire per la promo. Ecco, di solito dopo Sanremo si esce con un nuovo album e si promuove quello, ma il mio nuovo album era già uscito e non ne avevo scritto un altro nel frattempo. Quindi quello che decidiamo di fare è cannibalizzare Michelle, la cosa più bella che abbiamo fatto, cambiandogli la copertina, la forma, tutta la creatività al suo interno e ficcandoci dentro due canzoni che ben poco c'entrano con le precedenti. E poi in giro per l'Italia, a promuoverlo questo nuovo album, negli in-store, i firmacopie, e poi un tour, ma stavolta con la band, e poi interviste, la radio, la tv e tantissimo social. E nonostante tutto quello che stia facendo sia giusto, nonostante i risultati siano ottimi, nonostante qualche soldo nella saccoccetta me lo sia anche messo, io a questo punto sto veramente male, ma sto male con me stesso. E la mia incrollabile fiducia è più che crollata. Però ho un ultimo guizzo, prendo un'ultima decisione, smettere di fare musica, perché penso che sia colpa della musica se sto così male. Quindi chiedo alla Major di non rinnovare il mio contratto, smetto di fare concerti, smetto anche con tutte le attività collaterali e mi chiudo in me stesso. A questo punto sto uno schifo e mi faccio schifo, ma la cosa che più mi manda i pazzi è non capire quale sia la motivazione. È vero, avevo fatto cose di cui non ero pienamente convinto, ma i risultati, quelli erano stati ottimi e quelli mi erano davvero piaciuti. E poi la vita non è fare solo cose di cui si è pienamente convinti. Allora forse il problema non erano le cose che avevo fatto, ma quelle che non avevo fatto. Però ancora non capivo perché questa improvvisa mancanza di fiducia in me. Anzi, questa sensazione è come se della fiducia fosse stata tradita. Allora mi sono chiesto cosa succede tra due persone quando una tradisce la fiducia dell'altra. Di solito quella la cui fiducia viene tradita fa due cose. Soffre e si allontana per tutelarsi. Allora cosa succede quando queste due persone sono la stessa? Cioè quando siamo noi a tradire la nostra stessa fiducia, magari non mantenendo una promessa fatta a noi stessi o non dando il giusto peso, il giusto valore a qualcosa che per noi è davvero importante. Perché noi non possiamo allontanarci da noi stessi. Questa cosa mi aveva fatto pensare per un bel po'. E ho formato nella mia testa una teoria che cerco di spiegarvi così. Immaginiamoci divisi in due. Da un lato la nostra parte curiosa e propositiva, dall'altra quella razionale e responsabile. Tra queste due parti c'è un patto, una promessa che si sono fatte. Mentre una si impegna sempre a dire all'altra cos'è che vogliamo davvero, l'altra si impegna ad ascoltarla. A entrambe è concesso sbagliare. Così come a volte un nostro desiderio potrebbe essere dettato da un impulso passeggero, è una cosa che può capitare, o perlomeno che a me capita quasi quotidianamente, dall'altro lato potrebbe capitare di non dare il giusto peso, il giusto valore a qualcosa che per noi è davvero importante. Ma questo non è un problema. Il problema c'è quando una di queste due parti non mantiene la promessa fatta all'altra, ovvero sia quando una smette di ascoltare o peggio ancora quando l'altra smette di desiderare. Perché è in quel momento che la promessa viene infranta e quindi la fiducia viene tradita e poi persa e al suo posto si fanno largos sentimenti come la delusione, la rassegnazione, a volte persino il rancore. Però c'è un fatto che queste due metà siamo sempre noi e tutti quei sentimenti sono sempre nostri. Riguardando la mia vita mi sono reso conto di come io abbia sempre desiderato e ascoltato e finché ho fatto questo nonostante i fallimenti che vi assicuro ci sono stati e sono stati anche belli grossi e frustranti, però la fiducia in me è sempre rimasta alta e ha fatto anche da fondamenta per reggere il peso di tutte quelle cose che non volevo davvero fare ma che dovevo fare e che forse a volte era anche giusto fare. Quando però mi sono iniziato a concentrare solo su quello che dovevo, su quello che era giusto per condizionamento, per incertezza, per paura, ho iniziato a trascurare quello che volevo davvero fino ad arrivare al punto di non saperlo neanche più. È proprio in quel momento che esattamente come la mia fiducia sono crollato. Ma c'è un lieto fine a questa storia che altrimenti sarebbe di una tristezza inaudita e non so perché ve la starei raccontando. Sono riuscito a ricostruire la fiducia in me e semplicemente facendo due cose, tornando a desiderare e ad ascoltare e quindi ho ripreso a fare musica dapprima con un album fatto partendo tutto dai suoni della mia voce, una cosa molto sperimentale perché volevo farlo così e poi ho continuato a scrivere canzoni, ne sto pubblicando una al mese da circa un anno, ho ripreso a girare i miei amati video e a girarli esattamente come e quando voglio. Sono tornato sul palco a fare concerti, ho allargato la mia community con la quale ho un rapporto molto più stretto di quanto non abbia mai avuto prima e già che c'ero ho anche iniziato a studiare pianoforte e chissà cosa sarà la prossima cosa che sentirò davvero di voler fare. Quindi tutto sommato. Grazie. Non me l'aspettavo. Non ero preparato. Grazie davvero. Dicevo quindi tutto sommato per me quel crollo è stato un bene perché mi ha costretto a ripartire da zero per ricostruire la fiducia in me e per quanto io sia convinto che non sia sempre necessario crollare a volte è meglio che accada. Io però sono certo che tra di voi ci siano molte persone che a quel crollo potrebbero non arrivarci mai perché hanno già un rapporto sano con la fiducia, perché si ascoltano già abbastanza. Così come sono certo che tra di voi ci sono persone che a quel crollo potrebbero non arrivarci mai perché sono abituate a convivere con l'assenza di fiducia, perché sono abituate a mettersi costantemente da parte, a non dare mai il giusto valore, il giusto peso a quello che sentono davvero e ad accampare scuse su scuse a loro stesse pur di non provarci mai. Non prendiamoci in giro perché non ne vale mai la pena e se non vi fidate di me fidatevi di lui. Grazie.